Guarda fuori è già mattina, questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. Al prossimo episodio Quando si chiuderemo i nostri occhi, come stelle all'interno del cielo. Quando si chiuderemo i nostri occhi, come stelle all'interno del cielo. Quando si chiuderemo i nostri occhi, come stelle all'interno del cielo. I sogni tuoi, le tue superanze e poi, verso il giorno che verrà, c'è un traguardo là. Come stelle all'interno del cielo. 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 Grazie a tutti.